Un ente su due del mondo del volontariato toscano non ha risorse economiche per portare avanti l'attività. Il 14,2% ha dovuto chiudere, ma in alcune realtà anche il 27,8% ha dovuto chiudere, come è accaduto in Prinsia di Siena. C'è un generale ridimensionamento rispetto agli effetti che la pandemia ha provocato nel mondo del volontariato. L'indagine di sociometrica ci rilascia uno spaccato particolarmente preoccupante degli enti del terzo settore in Toscana. Una riduzione importante delle attività in circa il 70% degli enti, un dato economico preoccupantissimo che colpisce circa il 50% degli enti del terzo settore e addirittura la chiusura di oltre il 14% e la sospensione dell'attività di questi enti del terzo settore. Quindi abbiamo uno spaccato per noi importante su cui lavorare, ma permettetemi un dato di positività. La resilienza, cioè la capacità di rispondere a questa grave crisi attraverso la disponibilità continua dei dirigenti e dei volontari di mantenere il loro impegno e di mantenere la loro importante presenza nel tessuto sociale della Toscana. E questo per noi è un segno di speranza. Come CESVOT saremo a fianco di questa realtà per poter riprogettare, poter riprogrammare, poter stare insieme a loro, a fianco a loro, per garantire ancora quell'importante erogazione dei servizi che gli enti del terzo settore producono ormai storicamente da molti secoli nella nostra territorio e nella nostra regione.